Si prospetta veramente una vittoria molto larga, al di là delle più rose aspettative di ognuno di noi, però vuol dire veramente che la gente ha premiato la lista, ha premiato il sindaco, ha premiato il lavoro fatto in questi cinque anni e soprattutto ci ha dato tanta fiducia e tanta energia per continuare nei prossimi cinque. Quindi ringrazio davvero tutti perché è veramente un risultato molto largo e davvero per noi è una cosa molto molto importante. Sono contento personalmente perché davvero vuol dire che abbiamo lavorato bene, la gente ce l'ha riconosciuto, ringrazio tutti i borgaresi e ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, mi hanno aiutato in questa splendida avventura che è stata la campagna elettorale. Grazie a tutti e vorrei ancora dedicare questa vittoria al mio grande amico Vincenzo che se fosse stato qui avrebbe gioito insieme a noi. Credo che gliela dedichiamo tutti, gliela dedica il sindaco e gliela dedica tutta quanta la città. Grazie. Grazie. Grazie.